Non c'è pace per Toyota, la lista dei richiami si allunga con un 1-2 che nel giro di 48 ore ha coinvolto un totale di quasi 3 milioni e 400 mila auto. Nella maggior parte dei casi, all'origine vi è una possibile disfunzione al sistema per il controllo delle emissioni su diversi modelli prodotti tra il 2006 e il 2015, tra cui la popolare Corolla e la versione ibrida della Prius. Quest'ultima, insieme alla Lexus CT200h, rientra anche tra i modelli 2010-2012 su cui è stata riscontrata un'anomalia agli airbag martedì all'origine di 500 mila richiami.